ciao ciao a tutti eccomi qui con il secondo tutorial che vi avevo promesso di fare in questo periodo e che riguarda appunto questo modulino che in questo caso ho utilizzato nel fare un bracciale è fatto esclusivamente di rocaille rocaille di tre misure rocaille 11.0 15.0 e 8.0 io ho usato quelle della miuki e oltre a fare il bracciale con questo modulo ho fatto sempre utilizzando questo modulo degli orecchini quindi può essere utilizzato come modulino per arricchire un orecchino fatto anche quest'altra versione eccola qui e come dicevo anche l'altra volta può essere usato sia girando questo lato qua davanti o anche quest'altro così anche per il bracciale da questo lato qua mi dà l'idea di un lavoro al macramè tutti i nodini che si fanno di soldi al macramè mentre facevo il tutorial che stavo già facendolo mi sono resa appunto che all'interno di questo involucro che si forma facendo questo incrocio sopra si può anche inserire un a rivoli ecco non c'entra niente il verde con questo rosa però avevo come rivoli di misura 10 millimetri solo questo colore verde e io ci ho provato e c'entra tranquillamente ed è molto carino anche questo può essere utilizzato non dico come bracciale perché per fare un bracciale ci vogliono un bel po di rivoli volendo si potrebbe inserire una perla non so di quale misura però comunque qualcosina all'interno si può inglobare questi per esempio io li userò in questo modo qua o anche su una in una collana tipo che ne so alla fine di una collana uno può fare anche un pendente che scende un pendente che scende sul decolleté in questo modo qui che scende giù alla collana o anche inserirlo all'interno appunto di una collana per arricchire un pochettino il lavoro mi piace questo effetto che da con l'incrocio sul rivoli ok io adesso farò questo tutorial mostrandovi il modulino in questo modo come si cuce in un bracciale come si può inglobare un rivoli all'interno e e come si può appunto realizzare un modulino per inserirlo in degli orecchini in delle collane perché in questo caso io lo allungo mettendoci queste ulteriori berline in quest'altro caso no e vi faccio vedere come cucio le varie parti prima di fare il tutorial come potete vedere sullo sfondo io ho quest'altro quest'altro ciondolo che è uno schema uno schema fotografico che ho fatto tempo fa e che mi sta dando tribolazioni per colpa mia è nel senso che io in un primo momento feci il lo schema e lo feci all'epoca con utilizzando le perline della toho e quando poi mise a disposizione lo schema giustamente le persone si trovano in difficoltà perché io non sapevo all'epoca che c'era una differenza di misure tra quelle della toho e quelle della miyuki nel senso che se compro le perline della toho 11 0 sono un più grandi rispetto alle perline della toho della miyuki scusate 11 0 sono un po più grandi e quindi quando andavano a fare la lavorazione si trovano in difficoltà nei passaggi quindi ho rifatto lo schemino con le perline del lato della miyuki sto confondendo mi vabbè sembrava tutto a posto invece poi una creativa ultimamente mi ha fatto notare che in questi passaggi manca una foto purtroppo siccome sono passaggi un po ripetitivi perché più volte faccio questa punta mi è sfuggito a questa foto e questa amica me l'ha fatta notare quindi giustamente ho pensato di mettere a posto lo schema e quindi di rifarlo di nuovo e quindi ho fatto un altro ciondolo eccolo qua sempre sempre uguale seguendo le stesse gli stessi passaggi semplicemente siccome questo è fatto con delle rocaille miyuki come anche questo miyuki però che sono di una finitura diversa matt opac opac rispetto a queste qua che sono solo metallic e queste sono quelle normali turchesi ha un effetto ancora diverso perché questo è un po più bombato rispetto a questo qua risulta un po più bombato quindi se volete questo effetto qua per chi già ha questo schema basta usare la finitura di queste perline qua rispetto a quest'altra comunque sono belli tutti e due allora per chi già ha preso questo schema contattatemi che io vi rimando quello nuovo quello che ho rettificato quello che ha sistemato per chi è interessato e vuole ricevere questo schema e che non ho ancora avuto potete contattarmi lo stesso e farmelo sapere ok detto questo messaggio adesso parto con con il tutorial e ovviamente prima di proseguire non ho detto il nome della dello schema lo schema il fior di loto quindi chi ha questo schema contattatemi come dicevo prima o su facebook o sotto questo video su messenger dove volete e mi dite che avete questo schema e che volete quello nuovo ok adesso inizia il tutorial allora le perline sono pronte le 15 0 le 11 0 e le 80 comincio con la prima sequenza adesso metto un po più da vicino sperando che si veda tutto bene allora cominciamo con la prima sequenza di berline quindi la prendiamo una 11 0 una 80 di nuovo una 11 0 e una 15 0 in questo modo qui vediamo di mettere a fuoco ok andrò a fare questa sequenza altre tre volte ok allora teniamo queste qua di nuovo una 11 0 una 80 11 0 e 15 0 sono due di nuovo 11 0 80 11 0 e 15 0 sono tre l'ultima di nuovo una 11 0 80 11 0 e 15 0 eccole qua tutte quattro le sequenze ora porto queste perline alla fine del filo stando attenta perché già ho fatto questa parte ma non mi sono accorto che ho fatto uscire fuori tutte le perline quindi quindi andiamo alla fine del filo un altro pochettino adesso prendo un altro capo così non mi scappano un attimino solo ecco qua eccole qua tutte quante giro in questo modo a cerchio le fisso bene e dentro adesso con l'ago attraverso tutte le perline partendo dal lato dove ovviamente c'è la parte più corta del filo dal da dietro diciamo dal contrario facciamo un altro giro faccio un altro giro all'interno delle perline allora eccomi qua io ho fatto l'ulteriore giro ho fatto due nodini e tagliato al filo che c'era dall'altra estremità e adesso proseguiamo 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 partendo da questo punto qua uscendo dalla rocaille 11 0 che si trova in questo punto qua inserisco sull'ago una rocaille 11 0 una 15 0 e una 11 0 ecco qua entro nell'altra rocaille 11 0 che si trova dall'altra parte e dentro anche nella rocaille 8 0 e quella che viene dopo perché mi posiziono già direttamente nel punto dove devo inserire altre perline quindi vi faccio vedere ecco qua ho fatto questa punta qui che adesso sta un po' così però eccola qua ora io faccio un'altra volta il passaggio così vi faccio vedere di nuovo inserisco una 11 0 una 15 0 una 11 0 e faccio la stessa cosa anche qua entro anche nella 8 0 anche qui e mi posiziono nell'altro punto dove andrò a mettere le stesse perline che ho messo qua ecco qua così faccio la stessa cosa anche in questi altri due punti ho fatto anche gli altri due punti dove dovevo inserire le perline vediamo di mettere a fuoco ok adesso dobbiamo uscire da questa perlina questa qui e dobbiamo inserire sul lago una 11 0 una 8 0 e una 11 0 entro in quest'altro punto così però sono entrata anche nella 15 0 che non dovevo quindi torniamo indietro ecco qua e in questo punto devo fare di nuovo come prima inserire una 11 0 una 15 0 e una 11 0 in questo modo qua ok così vabbè poi si sistemano dopo anche quest'altro lato vado inserire una 11 1 8 e non 11 così e di nuovo qua vado a mettere una 11 1 15 e una 11 e dentro da quest'altra parte penso che sia chiaro voglio ripetere così faccio vedere ecco qua che ho inserito una 11 8 11 qui ho inserito di nuovo una 11 una 15 una 11 qua di nuovo una 11 una 8 una 11 qua di nuovo una 11 una 15 una 11 adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto di qua da quest'altro lato qui ci siamo ho fatto tutti e quattro i lati adesso per proseguire usciamo dalla 8 0 e vado a inserire in questo punto una 15 0 e una 11 0 e dentro nella rocaille che si trova lateralmente a questa punta che abbiamo fatto prima così così 15 0 11 0 adesso entro anche in queste altre due perline perché devo andare a quest'altro lato non dobbiamo inserire niente là sopra e di nuovo al contrario però mettiamo una 11 0 e una 15 0 e dentro nella 80 così così quindi uscendo dalla rocaille 11 0 mi devo trovare subito dopo una 11 0 vicino invece alla 80 mi trovo la 15 come anche in questo caso quindi ovviamente in questo caso faccio al contrario quindi metto una 15 0 e una 11 0 così ed entro in quest'altra punta senza inserire nulla quindi esco anche da quest'altro lato e qui di nuovo inserisco una 11 0 e una 15 0 ed entro nella 80 ecco qua di nuovo visto che sto vicino alla 80 metto prima una 15 e poi una 11 0 e dentro in quest'altra 11 0 attraverso le due perline che mi trovo davanti mi posiziono in quest'altro lato e anche qui vado a mettere una 11 0 e una 15 0 e dentro nella 8 sto facendo tutto il giro con voi di nuovo una 15 0 e una 11 0 e dentro qua così manca l'ultimo passaggio quindi passo da quest'altro lato e di nuovo e di nuovo una 11 0 e una 15 0 così adesso entro anche in questa e in quest'altra perché in questo modo mi sono posizionata per il prossimo passaggio così ci dobbiamo trovare in questo modo adesso in questo punto qua vado a inserire 5 rocaille 11 0 quindi 1 2 3 4 e 5 e dentro in quest'altra il lago si è sfilato quindi per forza di cose mi devo un attimo fermare andremo a formare questa punta ora io attraverso queste perline senza inserire nulla e vado a inserire 5 rocaille da qui a qui da qui a qui e da qui a qui ok eccomi di nuovo ho fatto tutti e quattro i punti che vi mostravo prima inserendo le 5 rocaille adesso per proseguire io esco qua non sono uscita ancora dalla terza rocaille delle 5 ne sono 5 io esco da quella centrale praticamente in questo modo qua vado a posizionarmi qui e adesso come vi dicevo all'inizio posso anche inglobare il rivoli in questo caso è un rivoli da 10 mm ora inserisco sull'ago una rocaille 11.0 una rocaille 15.0 e di nuovo una 11.0 e vado nella punta degli altri 5 e degli altri 5 rocaille 11.0 e tiro il filo lo tiro in modo da che si piega in questo modo qui allora continuo una 11.0 una 15.0 di nuovo una 11.0 e di nuovo entro nella punta di quest'altro gruppetto di perline così e tiro si sta già chiudendo faccio gli altri due punti quindi di nuovo una 11.0 15.0 11.0 e dentro in quest'altra punta eccola qua adesso devo fare l'ultimo quindi di nuovo 11.015.011 e dentro in quella che è stata la prima che ho inserito non facendo scappare il rivoli ecco qua adesso non può scappare più ecco qua l'abbiamo bloccato adesso faccio ovviamente un ulteriore giro nelle perline altrimenti non si non si fissa così giro un altro pochettino così non lo facciamo scappare più ecco qua già si sta fissando di nuovo così ok adesso proseguo nelle altre perline perché vi faccio vedere ecco qua si è fissato vi faccio vedere come completare questa parte esco di qua e mi posiziono nella prima perlina 11.0 che si trova qua ok ora quello che andrò a fare è mostrarvi semplicemente ma in una maniera molto molto semplice come faccio appunto queste due asoline per completare questo pezzetto allora inserisco ovviamente 2 rogale 11.0 3 15.0 di nuovo 2 11.0 ed entro nella perlina nell'ultima che si trova da quest'altra parte che sta un po' storta però è questa qui entro e le perline vanno a posizionarsi in questo modo qua ecco qua ora vado dall'altro lato dall'altro lato quindi vi faccio tutto il giro delle perline ho poco filo speriamo che non si sfila di nuovo l'ago ma tanto basta un altro poco poi è finito questo modulino allora ecco qua sono uscita da quest'altra parte e anche di qua inserisco 2 11.0 3 15.0 0 e di nuovo 2 11.0 e entro in quest'altra perlina qui ok ecco qua ecco qua sistema anche qui la punta ora praticamente il modulino è completato eccolo qua io adesso spengo di nuovo diciamo la telecamera e il telefonino e passo attraverso le perline per fissare questo filo e questo qui diciamo che è dove sta? terminato può diventare tranquillamente un modulino da inserire negli orecchini in questo caso c'è inserito un rivoli ovviamente per essere in questo modo semplicemente non si inserisce nulla e quindi abbiamo fatto il modulino che va bene negli orecchini o in una collana in un pendente per una collana quello che uno ci vuole fare molto molto semplicemente adesso vi mostro faccio di nuovo dei modulini e vi mostro come invece faccio questo nel senso che la parte ecco qua di qua la parte del modulino non ve la faccio rivedere di nuovo vi faccio rivedere il modulino senza il rivoli dentro vi faccio vedere poi come completo ok sto preparando adesso i moduli per farvi vedere come invece unisco tutti i moduli per formare un bracciale allora io ho fatto il primo modulino semplice semplice come già avete visto non ho aggiunto l'ultimo passaggio che è quello delle due asoline uno da un lato e uno dall'altro che rendono il modulino un po' più a rombo e mi sono fermata nella diciamo alla penultima il penultimo passaggio e ne sto facendo un altro e voglio farvi notare che quando ci troviamo a questo punto giusto per farvi capire vediamo se riesco a zoomare un attimo solo un attimo solo non a zoomare a mettere a fuoco scusate io sto facendo il passaggio dove inserisco le rocaille 11 0 8 0 11 0 lateralmente e poi in questo punto qua sto mettendo una rocaille 11 0 1 15 0 e una 11 0 diciamo che è la terza la prima è questa la seconda è questa e la terza è questa a questo punto io ne ho messa una due e tre qui invece di mettere una rocaille 11 0 una 15 e una 11 come ho fatto in questi altri tre casi metto soltanto due rocaille 11 0 perché un attimo che lo faccio e poi vi mostro ok allora io adesso ho inserito solo le due rocaille 11 0 così che adesso stanno tutte storte le metto a posto così vedete che rimangono aperte senza la 15 0 adesso io proseguo con il resto della lavorazione del modulino che avete già visto e qui ovviamente nel prossimo giro non vado a inserire più un'altra punta come ho fatto quello che voi avete visto quando avrò fatto il resto del modulino io devo cucirli e quindi che faccio inserisco poi la 15 0 che si trova in questa questo modulino qua che ho inserito la inserisco qua e le cucio insieme come si può vedere nel bracciale ecco qua ecco perché in questo passaggio che vi ho mostrato adesso io non vado a inserire la 15 0 in questo punto qua quindi ricordatevi che nel primo passaggio quello principale dove faccio il cerchio dovete metterla nel secondo la stessa cosa nel terzo andate a inserire la rocaille 15 0 qui qui e qui in questo caso qui no poi completate il modulino e poi va cucito come vi ho fatto vedere adesso ve lo mostro in pratica ecco qua ho fatto anche questo modulino un attimo che metto un po' più di zoom ecco qui e come vi facevo vedere in questo punto qua non ho messo la rocaille 15 0 questo perché devo unire i moduli l'uno con l'altro e quindi mi serve per come un aggancio qui in questo punto qui il primo ovviamente si fa con tutte le rocaille 15 0 in tutti i punti dove insomma deve stare dal secondo in poi si fa tre punti sì e uno no ok adesso appoggio questo sulla base e inserisco l'agon e la rocaille 15 0 che si trova nell'altro modulino in questo modo qui e tiro e fisso i due punti allora vado un attimo solo se no qua mi perdo ok entro anche ecco qua in quest'altro lato ok ho fissato la rocaille 15 0 qua in mezzo così ora io attraverserò tutte le perline in modo da fissare questo punto allora eccomi qua ho fissato anche questo punto e adesso esco in questo punto qua perché ovviamente non farò tutto il bracciale ma vi mostrerò come completarlo come fare la solina per raggiungere poi i gancetti per chiudere il bracciale sull'ago ho inserito una rocaille 11 0 5 rocaille 15 0 e una rocaille 11 0 e vado a quest'altro lato ok ecco qua ho fatto la solina per il bracciale ok vabbè questa si può fare come volete nel senso che potete cioè io preferisco fare in questo modo però potete aggiungere le perline come volete voi qua ok devo farci il bracciale però adesso non ho tempo quindi lo completerò poi in secondo momento questo è il lavoro che ci vuole per fare per unire i modulini per fare il bracciale vi mostro anche un attimo solo io ho cercato di completare gli orecchini quelli con i rivoli certo i colori insomma ci sarebbe ci sarebbe stata sicuramente meglio una goccia però insomma un attimo che tolgo ecco qua così e ci ho inserito questa pietruzza sotto che richiama un pochettino il verde della rivoli e questo è il risultato per quanto riguarda i modulini con il rivoli inserito all'interno carino anche se è rosa insomma però comunque messo col bronzo ci sta carino dai eccole qua gli orecchini terminati così e niente spero che il tutorial vi sia stato chiaro vabbè qua ci sta tutto io sto preparando un nuovo schema ho fatto vedere la foto su facebook ma fra poco farò il video vi mostrerò bene questo nuovo nuovo ciondolo che mi piace tantissimo nel frattempo io spero insomma vi abbia fatto piacere seguire questo tutorial io vi saluto e al prossimo video ciao